Ciao a tutti ragazzi e ragazze, oggi un video tutorial, come ho già accennato ad alcune di voi, sono tornata dal viaggio e in questi giorni, tempo ovviamente permettendo, dovrei riuscire a girare qualche video tutorial, un video per mostrarvi una collana che ho acquistato non fatta da me, ma potrebbe essere un'idea per tutti noi da fare, e niente, insomma, per un video invece di creazioni dovete aspettare sicuramente qualche giorno, perché vi ho mostrato tutto prima di partire, per cui devo mettermi al lavoro, questo è un video, appunto come vi dicevo, tutorial, è di un anello molto semplice, un anello che non è stato inventato da me, sinceramente non so se è stato inventato dalla ragazza che mi ha fatto vedere come fare, che si chiama Silvia, come me, l'ho fatto diversi anni fa in un suo corso nel paese in cui abito, insomma, io spero di non offendere nessuno di voi se mostro come fare questo anello, anche perché sinceramente su internet io non l'ho mai trovato, sicuramente magari alcuni di voi l'hanno già fatto, l'hanno già visto, io vabbè, come vi ho appena detto, lo faccio vedere come si esegue, e niente, spero di, ripeto, spero di non offendere nessuno. Torniamo a noi, materiale che occorre, 22 svaroschi da 4 mm, io ho scelto il crystal, 7 svaroschi da 6 mm, 4 rondelline svaroschi, o comunque con un brillantino, piccoline, poi conteria in argento e filo di nylon, io utilizzo lo 0,30 perché mi trovo bene con queste. Le rondelline sono mezzo centimetro, insomma, 0,5, ok, sono un po' ignorante matematica, spero di non aver sbagliato. Comunque, torniamo a noi. Primo passaggio, filo di nylon, inserire 3 svaroschi da 4 mm, nel filo di destra, nel filo di sinistra, inserire una conteria, uno svaroschi da 4 mm, e incrociare i due fili nello svaroschi da 6 mm. Allora, io ho già fatto il tutto e vi mostro, e vi mostro com'è, ed è questo. Vedete? Ah, mi scuso anche per la qualità del video, ma non ho nessuna lampada, andrò presto a comprarla, e niente, poi oggi sono volto tutto, sono in un'altra postazione rispetto a quello che faccio, dove giro sempre i video, per cui... Allora, ritorniamo a noi. Il secondo passaggio è uguale al terzo, quindi inserire uno svaroschi da 4, una conteria, uno svaroschi da 4, sia nel filo di destra che nel filo di sinistra, e incrociare nello svaroschi da 6. Stessa cosa fate identica per il passaggio successivo, quindi svaroschi da 4, conteria, svaroschi da 4, filo di destra, filo di sinistra uguale, si incrocia nello svaroschi da 6. Io ovviamente, per tirarmi avanti, visto che non ho chissà che memoria in questo telefono, si oppla, mamma mia, ma ce la posso fare, in questa videocamera, ecco, vi mostro già come deve venire il tutto. Il quarto passaggio, la quarta parte della fascetta di base, sarà la seguente. Svaroschi da 4, conteria, svaroschi da 4, sia nel filo di destra che nel filo di sinistra, e si incrocia nello svaroschi, in questo caso, non più da 6, ma da 4. Dopo aver fatto tutto, riportate i fili nello svaroschi, questo qua, quello che abbiamo appena fatto in questo passaggio. Comunque adesso vi mostro dove dovete arrivare. Eccomi qui. Allora, dovete, come vi dicevo, far riuscire, dopo aver fatto l'ultimo passaggio, i fili dello svaroschi. Adesso facciamo la parte sopra, che è semplicissima. Nel filo di destra, nel filo di sinistra, svaroschi da 4, rondella, svaroschi da 6, si incrocia nella perlina di conteria, di conteria, perlina d'argento. Fare poi la stessa cosa, ma adesso facciamo prima così. Vi mostro come. Ecco, questa è la prima parte. Adesso, per concludere, inserite, sì, in entrambi i fili, uno svaroschi da 6, una rondellina, uno svaroschi da 4, e incrociare i fili nell'ultimo svaroschi da 6 della base. Dopo aver portato i fili appunto allo svaroschi da 6, io consiglio, anzi, mi è stato consigliato di riportare i fili e rincrociarli nella conteria in argento centrale e farli passare per fissare meglio la fascetta sopra nello svaroschi da 6 millimetri quello che sta in mezzo nella base. Ecco, dopo aver fatto questo, ecco il motivo dell'anello. Oppure può essere un orecchino, un bracciale. Insomma, spero di avervi dato un'idea, avervi fatto vedere qualcosa di nuovo. Niente, ricordo che non penso di avervi mostrato qualcosa che non potevo fare. Se ci fosse qualcuno all'ascolto che si sente offeso del mio tutorial, me lo dica che lo cancello. Al prossimo video, un bacio a tutti, ciao!